Lo stai filmando? Ecco, così praticamente c'è il coso così. E va. Se io ci metto questo... Non fa niente. Cioè, la batteria... Così praticamente non si carica. E poi ci sarebbe da... Se io tolgo questo... Con cinque cose dovrebbe essere acceso, invece non funziona proprio. Poi aspetta che vediamo così. Se io premo, vedi che mi dice device... È molto caldo, ma di cosa? No, non fa niente. Sotto non c'è niente. Basta. No, sto parlando anch'io.